Vieni a vivere la tua vacanza magica al Nova Siri Village. Gonfiabili per i tuoi bambini, piscine e campi sportivi, animazione coinvolgente, open bar in spiaggia e in piscina, biberoneria per gli infant con prodotti forniti, griglieria e pizzeria inclusi al ristorante. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS